La Certosa di San Lorenzo a Padula presenta numeri in crescita che pongono il monumento di diritto tra i grandi attrattori della Campania, un percorso di crescita e valorizzazione frutto anche di un nuovo progetto che ha consentito di collegare il settecentesco monumento certosino ad altri monumenti presenti nelle aree più centrali della regione, in maniera tale da essere promossa e presentata ad un pubblico più vasto. La Certosa è riuscita così a sbarcare a Napoli acquisendo una maggiore notorietà ed allo stesso tempo suscitando anche un maggiore interesse che spinge il turista a visitarla e ammirando nella sua maestosità e grandezza a parlarne e suggerire quindi la visita del monumento. Per l'assessore regionale al turismo Corrado Matera l'insedimento della Certosa nella rete di grandi progetti regionali come il Cammino delle Tre Certose, legandola alle note Certose di Capri e Napoli, ha dato un nuovo impulso al processo di promozione turistica del monumento padulese. La Certosa di Padula è sicuramente un attrattore molto importante, è la Certosa più bella d'Europa. In questi anni noi abbiamo messo in campo diverse iniziative che mirano alla valorizzazione della Certosa. Basta anche pensare alle tante azioni di promozione che sono state fatte per Padula e quindi per la Certosa. Abbiamo messo in campo un progetto importante che è quello del brand delle Tre Certose, la campagna che si racconta insieme, per cui Capri, Napoli e Padula, le tre Certose importanti, che vengono presentate ad un pubblico internazionale e io penso che i risultati si iniziano a registrare. Guardi, il turismo in campagna cresce sempre di più. Cresce la campagna, e questo è importante, cresce sicuramente Pompei, ma cresce anche Padula. I dati che abbiamo registrato ci incoraggiano, Padula inizia ad essere visitata. Io penso che questa è la strada giusta. Io penso che nel passato noi siamo stati, lo ripeto con convinzione, siamo stati troppo lontani dai grandi centri. Oggi l'azione che sto facendo è quella di mettere in rete il territorio. E' stata la BIT a Milano, a che impressione hai avuto? Grande entusiasmo, grande attenzione per la Campania, disponibilità a visitare la nostra regione. Milano, quest'anno è stato un appuntamento importante quello di Milano, non solo la BIT ma anche Spazio Campania. Milano è una città europea che riesce ad accogliere centinaia di migliaia di turisti. Ebbene, in quella città, uno spazio che racconta la bella Campania, un altro sud. E questa sarà un'azione che, sono convinto, farà aumentare sempre di più il turismo in Campania e anche quello del Vallo di Viana. Grazie a tutti.